Benvenuti al Benito Stirpe. Il nuovo stadio del Frosinone e di Frosinone, visto dall'interno, curve distinti già pronti, semicurve di raccordo che si cominciano ad innalzare i rotoli d'erba che vengono stesi. Lo stadio è ormai realtà e la cosa che rappresenta al meglio il tutto è il manto erboso. Il tappeto verde è quasi completamente installato, di nuova generazione, che permetterà sia il calcio sia i concerti ad esempio. I lavori proseguono spediti. Qui poi, ai prossimi 15 giorni, inizieranno anche i montaggi di quelle che sono le coperture delle tribune e dei distinti, quindi della nord, della sud e dei formaggini. Quindi si stanno realizzando anche quelli che sono gli elementi, i punti di collegamento, le cosiddette semicurve che uniscono la curva sud e la nord ai distinti. E le altre due semicurve che verranno collocate al ridosso della tribuna centrale. Dopo l'installazione di quelle che sono le coperture sul cosiddetto anello che si sta realizzando, si procederà anche alla sopraelevazione di quella che è la grande tribuna centrale. Il nuovo stadio porterà una doppia rivoluzione, quella della struttura in senso stretto ma anche quella del parco urbano, in centro al posto del Matusa, un luogo di cui tutti i cittadini potranno godere appieno. Ma anche l'area esterna al Benito Stirpe sarà vivibile 365 giorni all'anno. All'esterno dello stadio sarà presente una sorta di clubhouse, quindi una struttura in grado di ospitare anche coloro che vogliono qui venire a effettuare, a portare avanti la pratica sportiva nell'anello di circa un chilometro, quindi jogging, footing o anche la pratica con le biciclette. Quindi le famiglie potranno lasciare le biciclette all'interno di questa struttura o fare docce o comunque sia avere dei servizi di natura sportiva riuscendo sostanzialmente a passare una giornata all'aria aperta. Quindi questo stadio, la struttura, sia quella interna che quella esterna potranno vivere 365 giorni all'anno sia sotto il punto di vista dello sport in senso stretto ma anche per tutto quello che riguarda il mondo dell'adversighting.